ciao a tutti e benvenuti sul mio canale prima di scoprire insieme il video di oggi ti invito ad iscriverti cliccando sul tasto iscriviti sul tasto rosso in basso e sulla campanella scegliendo l'opzione tutte per attivare tutti gli aggiornamenti dei miei video nel tutorial di oggi vedremo insieme come sia facile realizzare una collana all'uncinetto effetto corallo caratterizzata appunto da questi rami di corallo separati da questi cerchi dorati i materiali che ho utilizzato in questo progetto sono del cotone numero 5 colore rosso del filo lurex colore oro cinque cerchi come questi forati all'interno con un diametro di 3,5 centimetri potete benissimo usare anche gli anelli che vengono utilizzati per i tendaggi poi un ago da lana un uncinetto numero 2 delle forbici e una lacca economica visto che serve per questo tipo di lavoro con fissaggio extra forte ora come sempre alla descrizione del video trovate tutte le informazioni sui materiali e sui miei contatti ed ora passiamo al tutorial prima di iniziare la lavorazione della collana vorrei che voi seguiste questo schemino si vede subito infatti che il ramo di corallo è proprio caratterizzato da un ramo principale che io ho colorato con il colore rosso quindi questo dal quale poi partono man mano i vari rami secondari suddivisi a loro volta in altri piccoli rametti chiaramente ogni corallo è di diverso dall'altro ed è proprio questa la sua caratteristica e anche le collane che noi faremo saranno comunque una diversa dall'altra quindi con forme lunghezze diverse riprodurre il corallo all'uncinetto non è difficile basta capire la tecnica con cui si esegue questo tipo di lavorazione dove i punti utilizzati sono essenzialmente due la catenella e il punto basso quindi su ogni rametto va lavorata la catenella e poi ricoperta quindi con il punto basso a seconda dei rametti del numero della lunghezza che vogliamo che preferiamo quindi inserire affinché la lavorazione all'uncinetto dia proprio l'idea del corallo non esiste un numero prestabilito di catenelle da avviare o sulla lunghezza o sulla forma dei vari rametti proprio perché come ho già detto prima ogni ramo di corallo è diverso dall'altro io vi do l'input vi do le basi per mostrarvi come si realizza un ramo di corallo all'uncinetto ma il resto lo farà la vostra fantasia quindi ritornando allo schema la parte iniziale e finale del ramo come vedete non ha ramificazioni questo perché poi la parte iniziale e finale andrà collegata chiaramente agli anelli che successivamente poi vi farò vedere come ricoprire ora io ho avviato quindi 15 catenelle voi potete avviarne 16 17 o anche o anche di meno dipende sempre da ciò che preferite fare poi per eseguire un rametto per esempio in questo caso questo rametto secondario ho eseguito quindi 15 catenelle del ramo principale che è questo per quindi lavorare un rametto secondario non occorre altro che fare alcune catenelle io per esempio ne faccio 5 ne potete fare anche 7 8 eccetera sempre per quel famoso discorso che ogni corallo è diverso dall'altro quindi salto la prima catenella e lavoro quattro punti bassi semplicemente 1 2 3 4 questo è il ramo secondario che corrisponde a questo qui per lavorare ora un ramo secondario con una suddivisione quindi con un altro rametto come in questo caso quindi abbiamo il ramo secondario e questo piccolo rametto continuiamo sempre lavorando il ramo per il ramo secondario sempre al nostro piacere avviamo un dato numero di catenelle io ne avvio per per esempio 7 quindi 1 2 3 4 5 6 7 lavoro prima queste estremità quindi questa questo tratto salto la prima e lavoro 1 2 3 e 4 punti bassi ne posso fare anche di più poi avrò qua i 3 da lavorare perché abbiamo detto 7 7 maglie basse 7 catenelle del ramo secondario quindi per il ramo per il piccolo rametto quindi per questo qui per la suddivisione lavoriamo per esempio 3 catenelle entro sempre salto la prima faccio 2 maglie basse e per incrociarle non faccio altro che andare ritornare di nuovo nel ramo principale quindi nella prima catenelle quindi nella prima catenelle quindi nella prima catenella che incontro qui e faccio il punto basso niente di che lavoro i miei 3 le mie 3 maglie basse del ramo secondario e il gioco è fatto come vedete non è niente di che 1 2 3 4 5 6 7 quindi proseguo sempre la lavorazione del ramo principale e continuo a fare le mie varie ramificazioni per realizzare per esempio un ramo secondario con due suddivisioni quindi con questi due piccoli rametti faccio le mie le mie catenelle quindi del segmento del ramo principale ed inizio questa volta facendo prima questo tratto quindi questo qui avviando per esempio 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 poi per quest'altro ramo ne avvio 4 1 2 3 4 ed inizio a lavorarlo quindi a fare la mia maglia bassa quindi salto la prima abbiamo detto 4 catenelle quindi dovremo fare 3 maglie basse e si è formato già il primo poi continuo sempre sul ramo secondario facendo delle catenelle per esempio 7 7 catenelle quindi lavoro questa estremità lavorando per esempio 3 catenelle 1 2 e 3 che è questa per fare quest'altro piccolo rametto cosa faccio aggiungo sempre delle catenelle questa volta per esempio ne aggiungo 4 4 1 2 3 allora erano 5 4 quindi erano 5 catenelle 4 e entro in pratica nella prima catenella del ramo 5 catenelle 4 e entro in pratica nella prima catena del ramo secondario che è questa quindi lavoro 1 2 3 continuo sempre il ramo secondario lavorando altre catenelle quindi 3 e 4 quindi come vedete abbiamo un ramo secondario dove poi abbiamo fatto due altre ramificazioni per lavorare invece questo tipo di ramo cioè formato da un ramo secondario su un lato abbiamo un rametto e sull'altro lato due rametti opera in questo modo lasciamo sempre le catenelle per il ramo principale quindi 7 8 9 quelle che più preferite e poi abbiamo questo ramo secondario inizio da questo piccolo tratto quindi lascio per il ramo secondario 1 2 3 4 catenelle poi inizio a lavorare questo quindi il primo rametto questo primo rametto e faccio 1 2 3 4 catenelle salto la prima e lavoro 3 maglie basse e abbiamo fatto già la prima ramificazione proseguiamo quindi saliamo sempre facendo il ramo secondario che come il ramo principale cioè va fatto sempre con le catenelle solamente dopo quindi sul lato opposto va poi lavorato a punto basso quindi lasciamo per esempio 3 catenelle 1 2 3 e lavoriamo quest'altro ramo secondario che è un po' più lungo quindi avviamo per esempio 5 catenelle 3 4 5 e lavoriamo 4 maglie basse quindi saltiamo sempre la prima lavoriamo 1 2 3 4 ora continuiamo sempre facendo questo ramo secondario quindi che come il principale cioè viene fatto viene seguito con le catenelle 2 3 4 5 per esempio faccio l'estremità del ramo secondario e quindi ritorno ora lavorando a maglia bassa e faccio per esempio questo rametto metto 1 2 3 catenelle e lavoro 2 maglie basse a questo punto entro nella prima maglia del ramo secondario cioè questa e si uniscono quindi i due rametti continuo lavorando nelle catenelle le maglie basse adesso qua non ricordo alla fine quante ne dovevo lavorare se 4 o 5 comunque proprio perché il corallo è diverso una maglia in più non cambia nulla quindi 1 2 3 e 4 come vedete si è formato quindi un rametto secondario che è questo con una ramificazione su un lato e due sull'altro 3 4 5 6 del ramo principale e continuo così facendo le mie varie ramificazioni scusate il blitz della mia gatta ma oggi è particolarmente fastidiosa allora proseguiamo e una volta terminato il rametto principale all'incirca 18 20 cm secondo quello che preferite ritorniamo indietro nella lavorazione quindi lavoriamo tutto il ramo principale a punto basso con chiaramente le varie ramificazioni da fare negli spazi non coperti dai rami precedenti quindi lavoro ho terminato con 15 maglie quindi salto la prima e lavoro 10 maglie basse che mi servono poi per inserire questa estremità nell'anello una volta lavorate le ad un'estremità 10 maglie basse che mi servono appunto per agganciarle poi all'interno dell'anello ora lavoro i rami secondari e le varie suddivisioni quindi all'inizio lavoro un ramo secondario di un numero di catenelle a vostro piacimento quindi io ne ho fatte 5 voi ne potete fare 6 7 anche 3 e mi aggancio ora al ramo principale quindi su questo che va lavorato a maglia bassa una volta quindi lavorato il rametto secondario ora lavoriamo in questo segmento quindi compreso fra i due rami secondari un altro rametto un rametto secondario con varie suddivisioni quindi 2 3 4 secondo quello che preferiamo seguendo sempre le istruzioni che ho dato precedentemente una volta terminato quindi il rametto secondario che come vedete si trova a circa metà dei due sottostanti proseguo la lavorazione a maglia bassa e continuo sempre lavorando su ogni segmento all'incirca alla metà un altro rametto secondario e così via sino all'estremità finale una volta lavorati i vari rametti secondari quindi sul lato opposto del ramo principale quindi aver lavorato a maglia bassa tutto il ramo principale fino all'estremità finale io ho lasciato un 10 maglie basse perché poi sempre queste andranno poi inserite all'interno dell'anellino taglio il filo un po più lungo perché mi servirà per la cucitura e chiudo dovremo realizzare altri rametti quattro rametti precisamente di 18 ovetti 20 centimetri secondo quello che preferite è chiaro che più lunghi saranno i rametti più lunga sarà la collana e viceversa prima del montaggio della collana occorre ora rivestire questi anelli cinque anelli con il filo lurex ho già fatto il capiolino ora mi colloco sul dietro del lavoro tenendo l'anello sul davanti ed inizio a lavorare quindi ad avvolgere il cerchio con tante maglie basse ora non vi dico il numero esatto perché questo dipende dalla vostra mano di lavorazione l'essenziale è che le maglie basse devono ricoprire tutto l'anello quindi non ci devono essere spazi scoperti quindi una lavorazione molto compatta e procedete in questo modo sino alla fine ora montiamo la collana inserendo le varie estremità dei rami iniziale e finale all'interno di ogni cerchio quindi ponendo il cerchio sul diritto del lavoro e anche il ramo quindi in questo modo ho già inserito il lago da lana entro dentro al cerchio quindi inserisco una piccola parte dell'estremità in questo modo ed inizio a cucire a punti nascosti sul dietro uno o due o tre punti sono sufficienti e poi blocchiamo il filo stessa cosa va fatta sull'altra estremità del ramo quando inserite gli anelli accertatevi che il ramo di corallo sia tutto sul diritto perché altrimenti poi viene montato storto quindi fate attenzione a questo particolare e continuiamo poi a montare man mano gli altri anelli e rametti una volta montata tutta la collana quindi sempre sul diritto del lavoro la poniamo sopra un panno bianco come ho fatto io e cerchiamo di aprire tutti i vari rametti fissandoli proprio con degli spilli in questo modo in maniera tale da essere fissati e quindi venga meno questo effetto riccio è un'operazione un po' noiosetta però serve poi per avere un effetto più piatto infatti poi spruzzeremo della lacca che fisserà poi il tutto ora passo a spruzzare la lacca su tutti i rami di corallo una dose bella abbondante in maniera da fissare ben bene il tutto e poi lascio asciugare una volta asciutta toglieremo gli spilli e la collana sarà pronta una volta asciutta la collana misura all'incirco 85-86 cm come vedete i rametti sono ben più visibili rispetto a prima che avevano quell'effetto un po' riccio dovuto anche al cotone e alla lavorazione dei rametti che tendono proprio ad avere questo effetto riccio la collana di corallo all'uncinetto è terminata se anche a voi è piaciuta la mia idea lasciatemi un pollice in su e aspetto i vostri commenti e soprattutto ricordatevi di condividere il mio video con le vostre amiche ciao a tutti e buon lavoro creativo ciao